A Mediti siamo con Giuseppe Iachetta, amministratore Eulux. Chi è Eulux? Eulux è una società di produzione di sistemi di illuminazione a LED ed è una società che produce estremamente e solo in Italia. Benissimo. Eulux e la sicurezza, un connubio interessante? Sì, perché in effetti con l'illuminazione a LED si aumenta il livello di sicurezza in quanto con la luce a LED si ha maggiore dettaglio dei particolari. Per cui se illuminiamo dei posti con dei corpi lampi da LED si riesce ad avere una percezione migliore dell'ambito in cui vediamo a riprendere con delle telecamere e con quanto altro. Quindi con il LED si aumenta il grado di sicurezza relativo. Qual è stata quindi la risposta dell'installatore di sicurezza alle vostre proposte? Eccezionale perché fino ad oggi non si è mai data importanza a quella che potesse essere il valore aggiunto dato dall'illuminazione alla sicurezza intrinseca. Invece con il LED abbiamo dimostrato che questo aiuta e non poco l'irrilevamento del rischio e per cui aumentiamo la sicurezza dei sistemi. Per quanto riguarda l'offerta di prodotti che qui avete presentato a Mediti, quali in particolare? Noi abbiamo presentato tutta una serie di prodotti per l'indoor e per l'outdoor ma in particolare abbiamo portato un faro a LED che attualmente è il più potente presente sul mercato che è da 600 watt e che permette di poter illuminare grosse aree senza perdere il beneficio derivante dai LED. Benissimo e per quanto riguarda il vostro grado di soddisfazione di questa fiera? Eccezionale, altissimo. Abbiamo visto molto molto interesse da parte degli installatori e questo ci gratifica tantissimo. Quindi ci vediamo il prossimo anno? Senz'altro sì. Grazie.